Bene, cominciamo oggi il ripasso di fisica e iniziamo con la conservazione della quantità di moto e gli urti. Vediamo un brevissimo filmato che abbiamo già visto anche l'anno scorso, di questi due carrelli, scusate che vorrei rivederli con più calma, ecco, che collidono. Si tratta di due dispositivi particolari che sono su una rotaia d'aria, nel senso che l'attrito è ridotto al massimo, in modo tale che le sole forze che agiscono sui carrelli siano quelle dovute alla collisione, al peso del carrello stesso e alla reazione vincolare della rotaia su cui si spostano. Questa è la situazione ideale, abbiamo che noi la rotaia d'aria in laboratorio, l'abbiamo anche vista l'anno scorso se non ricordo male, e questo è un tipico esempio di urto, di collisione. Cosa si intende per urto? Quando dico in generale che i due oggetti si urtano? Quando ciascuno dei due, subisce una variazione di moto a causa dell'altro. In questo caso dico che c'è stato un urto. Qualche volta si può parlare anche di interazione, più in generale, i due carrelli interagiscono perché hanno effetto l'uno sull'altro. Ok? Un istante. Bene. Bene, torniamo ad analizzare dal punto di vista più generale, se volete più teorico, questo fenomeno che è quello degli urti o delle interazioni tra corpi diversi. Questo semplicissimo esempio ci porta a una legge fisica molto importante, pensate che ci sono state in passato situazioni in cui in virtù di questa legge, cioè applicando questa legge, sono state predette particelle elementari prima ancora di osservarle, di misurarle, di verificarle, in particolare il neutrino per esempio. Alcune reazioni sembravano violare questa legge e gli scienziati che l'hanno studiata, hanno fatto questo tipo di urti di collisione tra particelle elementari, hanno detto che la conservazione della quantità di moto imporrebbe che esista un'altra particella, di cui nessuno ha mai saputo niente fino ad adesso, che dovrebbe avere queste caratteristiche. E puntualmente, qualche esperimento dopo, qualche anno più tardi, è stata verificata l'esistenza di quella particella. Quindi è uno strumento di conoscenza della natura estremamente forte, estremamente importante. Allora, già abbiamo visto che applicando i principi della dinamica al concetto di lavoro, si arriva alla conservazione dell'energia, abbiamo discusso ampiamente l'anno scorso. In questo caso, invece, arriveremo anche a un'altra legge di conservazione per vie leggermente diverse. Focalizziamoci sul fenomeno dell'urto e immaginiamo la presenza di due carrelli, come quelli di prima. Uno che va verso sinistra, uno che va verso destra e si muovono lungo una rotaia, una traiettoria rotilinea, quello che volete. Ciascuno è dotato della sua massa e della sua velocità. Su ciascuno dei due carrelli, se, come abbiamo visto prima, tralasciamo l'effetto dell'attrito, agiscono due forze. Il peso, diretto verso il basso, e la reazione vincolare che bilancia esattamente il peso, perché non c'è moto verticale. Quindi le due forze, il peso e la reazione vincolare, sono a risultante nulla per il primo e anche per il secondo carrello. Si, tra virgolette, bilanciano. Se, attenzione, questo è un punto fondamentale, se intendiamo come il nostro sistema, sistema in fisica significa insieme di corpi, l'insieme carrello 1 più carrello 2, allora il peso e la reazione vincolare sono forze dovute a enti esterni al sistema. Perché il peso è dovuto alla terra, che non fa parte del nostro sistema. La reazione vincolare è dovuta al carrello, che non fa parte del nostro sistema. In questo caso, le forze esterne al sistema hanno risultante nulla. L'abbiamo appena visto, no? Siccome non c'è moto verticale, peso e la reazione vincolare si bilanciano, per il primo e per il secondo carrello. Quindi tutto ciò che non fa parte del sistema, tutto ciò che origina da oggetti o corpi o enti che non fanno parte del sistema, va sotto il nome di forza esterna. E in questo caso, nel caso del nostro urto, le forze esterne al sistema hanno risultante totale, cioè somma vettoriale di tutte le forze, uguale a zero. Questa è una condizione molto importante. Quando questo succede si dice che il sistema è isolato, cioè non subisce effetti da enti esterni che siano significativi per il suo moto. Facciamo un controesempio. Se io prendo il tappo della penna e lo lascio cadere, il tappo della penna non è più un sistema isolato, perché subisce una forza dovuta alla terra che è esterna al sistema, che ne cambia il moto. Se invece ho un sistema in cui la somma delle forze esterne al sistema è uguale a zero, parlo di sistema isolato. Che succede quindi durante l'urto? Durante l'urto, le velocità di ciascuno dei due carrelli in generale cambiano. Il primo carrello prima si spostava a destra, dopo va a sinistra e il secondo carrello prima va a sinistra e dopo va a destra. Quindi le velocità cambiano. Passo da v1 per il primo carrello a v1 primo. che avrà valori diversi e anche verso diversi in questo caso. Da destra a sinistra e viceversa. Quindi ciascuno dei due carrelli, siccome cambia di velocità, subisce una forza durante la collisione. Ma questa forza è una forza interna, perché è dovuta all'altro carrello. Ciascuno dei due carrelli subisce una variazione di velocità e per il secondo principio della dinamica ogni variazione di velocità è causata da una forza. Quindi, siccome delta v1 è diverso da zero, cioè il carrello 1 cambia velocità, l'accelerazione del carrello 1 sarà diverso da zero, quindi subisce una forza f1 dovuta al carrello 2. Perché è il carrello 2 che produce questa alterazione. Lo stesso vale per il carrello 2, anche il carrello 2 subisce un'accelerazione, cioè una variazione di velocità, delta v2 è diverso da zero. Però il carrello 2 subisce una forza dovuta al carrello 1, perché interagisce con lui. Ma questa coppia di forze, la forza che agisce sul carrello 1 dovuta al carrello 2, quella che agisce sul carrello 2 dovuta al carrello 1, sono una coppia azione-reazione, che per il terzo principio della dinamica sono forze della stessa intensità, direzione, ma diverso opposto. Questo meno sta a indicare che sono diverso opposto. Quindi qui applichiamo in maniera importante il terzo principio della dinamica. Nel nostro sistema, che è essenzialmente formato da due sole parti, il carrello 1 e il carrello 2, i due carrelli interagiscono, ognuno agisce sull'altro, e quindi agendo subisce la stessa reazione. Il carrello 1 ha effetto sul 2 e il 2 ha effetto sul 1. Questi due effetti che agiscono attenzione sui corpi diversi, perché uno agisce sul corpo 1 e l'altro sul corpo 2. Però sono una coppia di azione e reazione, cioè sono due forze della stessa intensità, della stessa direzione, ma diverso opposto. Andiamo ad analizzare più in dettaglio queste due forze. Beh, la forza sul carrello 1, per il secondo principio della dinamica, sarà la massa del carrello 1 per la sua accelerazione, cioè la variazione delle velocità all'intervallo di tempo. Quindi delta V1 su delta T. Delta V1 come potremmo individuarlo? Beh, velocità dopo l'urto meno quella prima dell'urto, quindi V1 primo meno V1. Ricordate che abbiamo detto che le velocità passano da V a V primo, tra prima e dopo l'urto. Con V primo indichiamo le velocità dopo che è stata successa la collisione, sia per il primo che per il secondo carrello. Quindi l'accelerazione posso esprimerla in questo modo. Moltiplicandola per la massa ottengo la forza. Questa è la forza che agisce sul carrello 1. Qua c'è lo stesso discorso sul carrello 2. Ecco la forza che agisce sul carrello 2. E dopo ci giochiamo la cassa, il terzo principio della dinamica. Quindi le due forze verificano questa relazione. Una forza è l'opposto dell'altra, l'opposto vettorialmente. Quindi M1 V1 primo meno V1 fratto delta T, delta T è la durata dell'urto, è uguale a meno F1 2, cioè M2 per V2 primo meno V2 fratto delta T. Delta T è la durata dell'urto, la durata durante la quale la forza agisce. La forza è reciproca tra i due carrelli. L'urto per indicare a ridurre allo stesso tempo. Quindi se qui ho delta T, qui ho delta T e posso semplificarlo a destra e a sinistra. Dopodiché moltiplico per la massa e ho M1 V1 primo meno M1 V1, che è uguale a meno M2 V2 primo, più, perché meno e meno fa più, M2 V2, porto tutte le grandezze con il primo a sinistra e quelle senza primo a destra. Quindi a sinistra ho M1 V1 primo, M2 V2 primo cambia segno, quindi dando a sinistra diventa più, più quindi M2 V2 primo, uguale a M2 V2 più M1 V1. A sinistra ho tutto quanto relativo a dopo l'urto, a destra tutto quanto è relativo a prima dell'urto. e sommo, come vedete, due grandezze omogenee, il prodotto tra massa e velocità. Questo significa che, in virtù del fatto che A, il sistema è isolato, attenzione, e B vale il terzo principio della dinamica, posso dire che, se sommo la grandezza massa per velocità relativa a tutte le componenti del sistema, in questo caso sono solo due, il suo valore prima dell'urto e dopo dell'urto sarà esattamente lo stesso. Quando ho qualcosa che non cambia nel tempo o durante un processo, dico che quel qualcosa si conserva, che dura, che non viene alterato dal fenomeno in corso. e ciò che in natura dura significa che la natura conta molto su quell'oggetto, su quel concetto. È una cosa importante, ciò che dura nel tempo è importante. Quindi questa grandezza, che assume questa importanza, ha un nome speciale. Il prodotto tra massa e velocità prende il nome di quantità di moto. L'inglese per questo ha un nome molto bello. Lo chiama momentum, dal latino movementum, una contrazione di movementum. Noi lo chiamiamo quantità di moto. La quantità di moto di un corpo, attenzione, è un vettore. Non è come l'energia che è uno scalare. Questa quantità ha un'intensità a direzione e verso. Ed è il prodotto della massa dell'oggetto per la sua velocità vettoriale. Quindi un oggetto di piccola massa che ha un'alta velocità potrebbe avere la stessa quantità di moto di un oggetto di grande massa ma lento. D'accordo? Quindi come possiamo riformulare quanto abbiamo prima trovato? Beh, possiamo dirlo dicendo che se sommo la quantità di moto totale del mio sistema prima dell'urto, quindi la somma di tutte le quantità di moto di ogni singola sua parte, il totale ha lo stesso valore di quello che trovo dopo l'urto. Quindi non cambia nel tempo. A patto che valgano le condizioni viste prima, cioè che il sistema si è isolato, cioè che le forze esterne abbiano risultante nulla. Lo ridico. Se ho un sistema, cioè un insieme di corpi per i quali la somma vettoriale delle forze esterne al sistema dà risultante nulla, allora, e solo allora, posso dire che la quantità di moto totale del sistema non cambia nel tempo. Cioè si conserva. Questa legge prende il nome di legge di conservazione della quantità di moto totale. totale in che senso? Totale nel senso della somma vettoriale. Attenzione. La quantità di moto è un vettore. Devo tenere conto di intensità, direzione e verso. E rimane costante nel tempo se e solo se esternamente al sistema possono essersi un'infinità di cose, ma devono dare risultante nulla. perché se la risultante non è zero, allora la quantità di moto non si conserva. Anzi, posso fare il ragionamento addirittura inverso. Se ho un sistema e vedo che nel tempo la sua quantità di moto cambia, ne deduco immediatamente che il sistema non è isolato, cioè il risultante delle forze esterne non è sicuramente zero. Cioè qualcuno che agisce sul sistema in qualche modo. D'accordo? Facciamo un attimino un passo indietro. Torniamo al secondo principio della dinamica. F uguale a m per a. L'accelerazione, abbiamo visto, è la variazione della velocità nell'intervallo di tempo. Ma per esempio posso scriverla come mv a ogni distante t meno la velocità t zero fratto t meno t zero. Ma se moltiplico il numeratore per m ho le quantità di moto mv meno mv zero. Quindi il numeratore posso scriverlo come la variazione della quantità di moto dell'oggetto, dell'intervallo di tempo. Quindi posso esprimere il secondo principio in questo modo. La forza che agisce su un corpo è data dalla rapidità con cui cambia nel tempo la sua quantità di moto. E questo è il vero principio, secondo principio della dinamica. Questo è quello annunciato da Newton. Newton non ha mai detto che è f uguale a m per a. Questa è una cosa che si dice nei corsi di fisica introduttivi per semplificare la vita agli studenti per dare una versione più semplice. In realtà il secondo principio della dinamica che è presente nei principi a questo. La forza è la rapidità con cui cambia il momentum dice Newton. C'è la quantità di moto nel tempo. A breve quando avremo un po' più di matematica alle spalle vedremo che in realtà questo rapporto tra variazioni è una derivata cioè è una rapidità di variazione temporale istantanea. Ci sarebbe un po' più di matematica ma la rideremo. Ok? Questo è un motivo in più per sottolineare l'importanza di questo concetto il concetto della quantità di moto. è quello che entra nel secondo principio della dinamica. Ok? Facciamo un esempio un esercizio rapidamente. Immaginate di avere i nostri due carrelli di prima. Uno ha una massa di un chilogrammo l'altro ha una massa di mezzo chilogrammo. il primo carrello uno va verso destra con una velocità di due metri al secondo. Qual è la velocità del secondo carrello in modo tale che dopo l'urto i due carrelli siano fermi entrambi che si agganciano e stanno fermi? beh basta applicare la legge di conservazione di quantità di moto qui abbiamo un sistema isolato supponendo che l'attrito non agisca non facciamo altro che calcolare la quantità di moto totale dopo l'urto che è zero perché i due carrelli si agganciano i due vagoni del treno si agganciano e stanno entrambi fermi la velocità è nulla quindi i carrelli hanno velocità zero prima dell'urto ho M1V1 più M2V2 questo è il prima il dopo è zero quindi non faccio altro che portare M1V1 a destra e dividere per M2 e ottengo che la velocità del carrello 2 deve essere uguale all'opposto attenzione di M1 fratto M2 per V1 quindi è meno un chilogrammo diviso metodo chilogrammo per 2 meno 4 metri al secondo questo meno ha un significato fisico molto importante perché se V1 è positivo V2 è negativo cioè è un verso opposto il carrello 2 va verso il sinistra se io fisso come positivo quello a destra è chiaro che V2 se va a sinistra ha una velocità negativa attenzione ad attribuire alle velocità il segno corretto ok ci sono domande fin qui no tutto bene ok prego prego se non ci sono domande o obiezioni io andrei a rivedere anche il concetto di centro di massa se riusciamo a farlo velocemente d'accordo? ok ci siamo abbiamo appena visto la legge di conservazione della quantità di moto totale di un sistema cioè se ho un sistema nel quale la somma vettoriale delle forze esterne al sistema è zero allora e solo allora la quantità di moto totale si conserva rimane costante questo cosa significa? significa che se ho il caso dei due carrelli il prodotto qui abbiamo un sistema unidimensionale siccome deve avere solo l'asse delle x quindi se proietto tutti i miei vettori sull'asse delle x posso anche togliere il segno di vettore le grandezze massa per velocità del carrello A e del carrello B prima e dopo l'ultimo sono identiche non ho fatto altro che riscrivere la conservazione nella quantità di moto totale qui invece che avere i carrelli 1 e 2 o A e B se no uno ha sempre 1 e 2 si annoia bisogna cambiare qualche volta attenzione possiamo benissimo indicare la velocità di ciascun carrello come il rapporto tra lo spostamento e l'intervallo di tempo durante il quale il spostamento avviene definizione di velocità d'accordo? allora posso immaginare che la quantità di moto totale del mio sistema cioè la somma di tutte le quantità di moto come per esempio succederebbe se i due carrelli si agganciassero ok? come abbiamo visto nell'esempio di prima nel filmato all'inizio ok? come se tutto il mio sistema fosse rappresentato da un unico oggetto che ovviamente ha la massa totale a più mb e si muove a una particolare velocità mi spiego meglio questa relazione che cosa mi dice? dice ok ho il mio sistema due carrelli che si muovono entrambi d'accordo? che oggetto avrei se invece che avere due carrelli ne avessi uno solo? perché tanto la quantità di moto è la stessa che si agganciano che non si agganciano è sempre questa me lo garantisce la legge di conservazione della quantità di moto totale beh se avessi un solo punto avrebbe una massa pari alla massa dei due la sua massa totale per una velocità che chiamo velocità del centro di massa come la calcolo la velocità del centro di massa? non faccio altro che prendere la quantità di moto totale ok? ma va più mb vb prima o dopo l'ulto è indifferente tanto è lo stesso diviso per la massa totale e questa che cos'è questo oggetto? beh se il mio sistema fosse fatto da un solo punto che contiene in sé tutta la massa quel punto si muoverebbe a questa velocità e come vedete c'entra sia la velocità di ciascun oggetto ma c'entra anche la sua massa quindi l'oggetto più massiccio è più rilevante per il sistema e tu si dice che la velocità del centro di massa è una media delle velocità pesata con le masse delle sue componenti ok? quindi se a avesse velocità doppia di quella di b la sua velocità conterebbe il doppio quindi pesa di più d'accordo? facciamo un esempio è chiaro che supponiamo che abbiamo due classi d'accordo? una di 30 studenti e una di 10 studenti ok? facciamo una verifica la stessa verifica in entrambe le classi ok? e poi mettiamo insieme i risultati quindi abbiamo 40 ragazzi che hanno fatto una verifica se io vedo la media dei 40 studenti è chiaro che la media complessiva sarà influenzata più dalla classe dei 30 studenti che non da quella di 10 perché sono più numerosi e qui è uguale cioè ottengo alla fine una media pesata con la massa delle componenti è chiaro che se ad esempio le due componenti A e B avessero la stessa massa M M qui viene raccolta e quindi la media diventa la media aritmetica non più la media pesata ok? in generale in un sistema il centro di massa è quel punto che si comporta in modo tale che avrebbe lo stesso tipo di moto se tutta la massa del sistema fosse concentrata in quel punto questo si chiama centro di massa non è detto che sia un punto fisicamente interno al sistema ok? se prendete per esempio un atleta un tuffatore d'accordo? se lo mettete in piedi normalmente il centro di massa del corpo umano si trova più o meno a livello della quinta lombare all'interno del corpo ma se io mi piego in avanti il centro di massa è esterno non è più fisicamente interno dipende anche dalla forma dell'oggetto del sistema ok? quindi è un punto tutto sommato ideale dipende dalla forma del sistema da come è distribuita la massa quindi se prendiamo la quantità di moto totale del sistema somma della quantità di moto di A più somma della quantità di moto di B e esprimiamo la velocità in funzione di spostamento diviso intervallo di tempo allora mettendo tutto sotto un'unica frazione è facile rendersi conto che posso anche esprimere la quantità di moto totale del sistema come la variazione della posizione del centro di massa tra prima e dopo l'intervallo di tempo delta T quindi posso immaginare anche una non solo la velocità del centro di massa ma anche la sua posizione e fatalmente si comporta nello stesso modo cioè dove si trova il centro di massa beh la sua posizione non è altro che la media pesata delle posizioni delle sue componenti analogamente a quando succedeva per le velocità si comporta nello stesso modo quello che avevo detto prima prendo l'esempio del tuffatore d'accordo mi serve il centro di massa si perché mi permette di semplificare di molto l'analisi del sistema se io devo studiare il moto del tuffatore grazie è chiaro che studiare il moto del tuffatore mentre si tuffa è complicato perché la forma del corpo cambia ok ma esiste un punto che ha un moto semplice che è lo stesso che avrebbe se tutta la massa fosse concentrata lì dentro quindi che io lanci un puntolino con una massa di 80 kg che fa una traiettoria parabolica ok quella stessa è la stessa traiettoria che farebbe il centro di massa del mio nuotatore se partisse con la stessa velocità la stessa angolazione iniziale quindi mi serve per semplificare lo studio del moto di sistemi anche complessi cioè fatti di diverse parti tra virgolette in movimento tutte quante ok questo è il congetto di centro di massa nel caso degli urti qual è l'importanza del centro di massa l'importanza del centro di massa è la seguente siccome il centro di massa rappresenta la totalità del sistema e quindi la sua quantità di moto è uguale a quella totale è chiaro che dato tra quantità di moto si conserva tra il prima e dopo l'urto la velocità del centro di massa sarà esattamente la stessa perché il totale della quantità di moto prima e dopo l'urto rimangono esattamente identiche quindi sarà un punto che non mi permette cioè del quale non vedrò nessuna variazione tra prima dell'urto e dopo l'urto ok bene per adesso ci fermiamo qua